benvenuti in questa guida top 7 tablet per bambini di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo tablet per bambini vedu premium questo tablet per bambini è una grande scelta ha uno schermo di protezione degli occhi un controllo parentale preinstallato e un gigabyte di ram è divertente e facile da usare con un design elegante e colorato un regalo perfetto per i bambini punteggio 75 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo priton tablet per bambini 7 questo tablet per bambini è una grande scelta ha una buona memoria ram e rom doppia fotocamera connessione wifi bluetooth e giochi educativi il software di controllo genitori è un plus la custodia protettiva di tipo c è un'altra caratteristica utile punteggio 82 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo clementoni clempad evolution tablet bambini 312 un tablet educativo perfetto per i bambini il clempad evolution offre uno schermo hd da 8 pollici 16 gigabyte di memoria 2 gigabyte di ram e android 11 multicolore e divertente è un ottimo modo per insegnare ai bambini le basi della tecnologia ottimo acquisto punteggio 84 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare a o quei tablet 10 pollici bambini questo tablet a o quei è una grande scelta per i bambini ha una memoria ram di 4 gigabyte e una memoria ram di 64 gigabyte espandibile fino a 128 gigabyte il processore octa core offre prestazioni veloci e fluide la batteria da 8000 milliampere ora garantisce ore di divertimento senza preoccupazioni punteggio 85 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo tablet per bambini 32 gigabit questo tablet per bambini è una scelta eccellente ha una memoria espandibile fino a 128 gigabyte un display fhd da 7 pollici android 11 wifi 6 gps google play doppia fotocamera controllo parentale giochi educativi e una custodia eva inclusa i miei figli lo adorano punteggio 88 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo waynyok tablet per bambini display questo tablet per bambini è un ottimo acquisto il display ips da 7 pollici offre un'eccellente qualità dell'immagine mentre i 2 gigabyte di ram e i 16 gigabyte di memoria interna garantiscono prestazioni veloci la fotocamera il wifi e il bluetooth sono tutti di buona qualità punteggio 90 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica s annuo tablet per bambini 7 questo tablet per bambini è una grande scelta ha una buona memoria una fotocamera decente e una custodia protettiva il controllo parentale è un ottimo modo per tenere i bambini al sicuro mentre si divertono con l'apprendimento ed educazione un ottimo acquisto per i genitori che vogliono dare ai loro figli un tablet di qualità punteggio 92 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale